Buon pomeriggio, bentrovati, consueto appuntamento dedicato alle news di mercato con Juventino 100%, lo spazio è redatto con il canale e con la piattaforma che vi invitiamo a seguire sui social. Conferme dalla Germania, la Juventus ha chiesto a De Iemi al Borussia Dortmund e avrebbe già un accordo di massimo al giocatore che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Marcelli tedesco ha chiesto 40 milioni di euro, sulle sue tracce c'è infatti anche il Chelsea come via avevamo già preannunciato. Con l'inserimento dei Blues difficilmente il Dortmund farà sconti. La trattativa non si preannuncia facile, è giunto, le deve prima vendere gli esuberi ma il giocatore tedesco è uno degli obiettivi principali di Motta. I tedeschi sono pronti a ingaggiare la stella francese dell'Ione, l'estroso fantasista Ryan Kerki a prescindere da come andrà l'operazione in uscita di A De Iemi. Difficilmente invece lavoreranno per il ritorno di Sancho. Enigma Federico Chiesa. Questo è un bel enigma. Sinceramente non pensiamo che può essere oggetto di uno scambio fra Juventus e Napoli per la semplice ragione che l'attaccante bianconero difficilmente si accontenterà di un ingaggio di 5 milioni. Nel caso contrario avrebbe accettato l'offerta del rinnovo ponte proposto in primavera da Giuntoli e questo non l'ha fatto. È vero che il Napoli è in pressing con Conte che lavora sotto traccia per strapparlo alla Juventus negli ultimi giorni di mercato ma la mossa potrebbe essere tardiva. Perché? Punto interrogativo. Come vi spieghiamo dalla scorsa settimana state attenti alle manovre del procuratore Ramadani che sta lavorando anche in scadenza in ottica 2025 ovvero al momento della scadenza del contratto che è l'unica soluzione reale per assicurare a Chiesa al momento un ingaggio superiore da quelli prospettati da Juve, Roma e Napoli. C'è però un'ipotesi che in queste ore rimbalza dall'Inghilterra. Si parla con insistenza del fatto che il Tottenham stia preparando un'offerta per Chiesa ma se non supererà i 7 milioni di anni difficilmente verrà accettata dal giocatore che consapevolmente è consapevole che l'unico modo per guadagnare questa cifra è svincolarsi dopo però aver fatto un anno ai box con la Juventus. È un bel enigma quello di Chiesa, ne aspettiamo una soluzione in tempi brevi ma probabilmente non avverrà. Smentito per via dei canali ufficiosi il contatto con Oralei del Celtic, la Juve non vuole interferire con l'Atalanta e complicare i piani per Copmeiner, si punta ad arrivare a un accordo sui 50 milioni. Tra l'Arsenal e Bologna prosegue invece la trattativa per Calafiori con il ritiro della Juventus, della corsa per il difensore, i londinesi stanno giocando a ribasso e non si muovono dalla valutazione di 42 milioni di sterline, bonus compresi. Sartori vorrebbe ragionare sulla base dei 42 milioni più bonus, si tratta ma l'affare andrà in porto. Il Manchester City è vicinissimo all'ingaggio di Dani Olmo dei Red Bull, l'Ipsia per un 50 milioni di sterline tondo tondo. Infine per quanto riguarda le nazionali, Eddie Howe è il candidato principale a sostituire sulla panchina dell'Inghilterra, Gareth Southgate, se quest'ultimo non dovesse accettare l'offerta di prolungamento della Federazione Inglese. Ancora non ha fatto sapere quale sia la sua decisione dopo la seconda finale consecutiva europea, conquistata in tre anni. Alla chiusura di questo spazio flash, come facciamo ogni giorno, vi faccio una domanda, ma alla fine quanto può valere Federico Chiesa e quanto paghereste Federico Chiesa? Questi atteggiamenti chiaramente non depongono a favore di Rabiot, di cui non abbiamo notizie. Sono ancora due punti interrogativi questi due signori in Juventus. Vi ricordo di seguire Juventino 100%, piattaforma dedicata a tutti i tifosi della Juventus. Questo spazio è redatto in collaborazione con questo canale. Grazie ancora e ci vediamo presto. Grazie ancora e ci vediamo presto.